10 comuni attraversati, 74 km di lunghezza e un finanziamento stanziato di 6 milioni e mezzo di euro che andranno a coprire i primi 35 km. Sono questi alcuni numeri della ciclovia del Metauro, oggi al centro di un protocollo d'intesa firmato dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e dal sindaco di Fano Massimo Seri. Il tracciato con pendenza media del 2,5% attraverserà Fano e Fossombrone passando per Cartoceto, Colli al Metauro e Monte Felcino, interessate sia le aree urbane che le zone agricole, ma come spiegato dall'architetto Goffi, il percorso sarà autonomo, protetto e lontano dalla viabilità e dalla ferrovia. Tra gli obiettivi c'è anche quello di proseguire la ciclabile verso l'Umbria e la costa tirrenica, un progetto legato alla battaglia per il superamento dell'isolamento della regione al fine di attrarre nuovi flussi economici e turistici. Un nuovo modello nella concezione delle ciclovie della regione, una ciclovia del direvertimento, una ciclovia turistica ma anche una ciclovia urbana con forti elementi identitari per la città di Fano che uniranno il mare al centro storico, il centro storico al grande parco urbano su cui sta lavorando la città di Fano, ma anche al quartiere più popoloso della città, ossia il quartiere di Sant'Orso. Saremo in grado quindi di soddisfare diverse esigenze ponendo al centro delle interconnessioni ciclabili proprio questa ciclovia. Perché? Perché il protocollo firmato oggi con l'amministrazione comunale di Fano si inserisce anche nello sviluppo della ciclovia adriatica. Infatti con il sindaco Seri abbiamo parlato anche della realizzazione del nuovo ponte ciclabile sul fiume Metauro. E quindi è veramente un passo in avanti la sottoscrizione di questo protocollo perché si passa dalle parole e i fatti, quelle parole che non avevano in passato disegnato nemmeno un metro della ciclovia del Metauro. Il finanziamento che è stato incrementato rispetto alla disponibilità iniziale grazie ai 2 milioni aggiunti dall'assessorato alle infrastrutture pone le basi per candidare la ciclovia del Metauro a far parte del gruppo delle ciclovie nazionali. Nel dettaglio il tracciato di Fano sarà lungo 5 chilometri e avrà un costo di 3 milioni e 900 mila euro. Qui è prevista anche un'opera infrastrutturale, il nuovo ponte d'acciaio sulla superstrada e sul canale Albani, largo 3 metri, che sarà in grado di collegare due quartieri della città attraversando Via Papiria. Il primo cittadino oggi in conferenza ha parlato di concretezza, dialogo e collaborazione tra gli enti coinvolti. Con questa firma del protocollo avviamo in modo definitivo questo processo di realizzazione di questa infrastruttura. Un'infrastruttura importante per la nostra città ma mi viene da dire per il territorio perché collega una serie di piste ciclabili, collega quartieri della nostra città ma soprattutto valorizza anche tutta una serie di infrastrutture e di spazi anche belli ambientalmente parlando come il nuovo parco dell'aeroporto nella nostra città. Non dimentichiamo che siamo città turistiche e quindi anche per coloro che sceglieranno di venire a fare le vacanze nel nostro territorio troveranno una rete di ciclabili interessanti, belle da vivere e che ci fanno assaporare anche l'ambiente che ci circonda.